Grazie a tutti Allora aspetta aspetta Passiamo da così No Ok Il pollice va praticamente a piegare quest'angolo Dove cazzo va Il dito per farlo partire Devi fare di questo Esatto Quel movimento Porco 2 è volato Devi fare questo movimento E' bellissimo sto cosa Ehi piccolo Ehi coglioni di me E poi è il suo d'insola Beh però va a fare il boomerang Piano Gudi Ci sta Piano Perché c'è stato il tetto basso Piano Devi regolare la tua forza No Questo si può fare anche così Ma l'ho spaventato Ma l'ho spaventato Poi Gudi quando imparerei a fare quello il vantaggio Non fa vedere la matta perché adesso Cosa? Quando fare il vantaggio con questo Ah Gudi Non so se ci riesco Cazzo è? E' il numero del vantaggio Non so Rispondi 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 Pronto? Allo? Pronto? Tag Buonasera Eh? Buonasera Siamo la Basic Financial Introduction Società Intermediaria Prima di tutto Le informo che qui sta chiamata Non ha un scopo commerciale Secondo le chiedo Scusate di riscopo Immagino Che sta lavorando giusto? Eh si Immagino gentile Ma sarà breve Concreto Lo stesso tempo Le spiego subito Contattiamo In merito A una valutazione Siamo una società In collaborazione Allora Gudi Quando riuscirà a fare il ventaglio E' anche il boomerang meglio Ha detto Immagino che stia lavorando Ma lei che cazzo Le stanno lavorando Sono un ragazzino Una cuttella Devi provare a fare di questo La lanci E devi cercare di Infilarla nel Nel mazzo Hai visto quello che stavo facendo A rimbo? Eh Quello là Gure Anche Qui c'è il video Aspera rica Non mi avete fatto ricordare Aspera Non mi sono andato a caro Vabbè Si muoviti però Che voglio finire Voglio mangiare Odia Io volevo fare l'ultima cosa Insegnargli un gioco di immagini Una carta ambiziosa Voglio insegnargli Eh Matteo Volevo insegnargli Dopo fai te Che ho parlato tutto il video Ho parlato tutto il video io Che cazzo vuoi? Lo fai te La carta ambiziosa La carta che? Ambiziosa Allora è un gioco di immagini Adesso segui Matteo Fai scegliere Prima fagglielo E poi glielo spieghi Allora Prima fagglielo E poi glielo spieghi Stop Ok Guardale ricordala Ragazzi se vede guardo qua Perché ho delle canale Ok si si vede Ok Mettila qua Allora Fammi vedere Fammi vedere Fammi vedere Non guardare Non guardare Solo spoilerare Non spoilerare Allora Vado a mischiare Per disperderlo Ok Ok Ti sta annoiando Ti fa male? Tutto Del cazzo No il cazzo sta apposto Sì Cazzo sta Il cazzo sta destra Secondo te La carta In che posizione sta? Aspetta 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 Fermi Fermi Sera fermata La registrazione Vai Ripartila Sta al centro Sì Sta nel mazzo Non stai prima Ok Guarda attentamente Però La carta è là? Due di cuore Ah Vero pure vista Dici perché la sai? Non l'ho vista Io tengo la prima carta così Fai bene attenzione Basta che faccio così La carta arriva prima Ok E arrivo Basta che La prima carta Era due di cuore La metto in mezzo E si torna sempre in cima Ok Ho capito Che fastidio che sei quando devi toccare carte Sì E' un po' di davio fantastico C'era due di cuore in cima C'è due di cuore in cima C'è sempre due di cuore circa No Era per Per Non l'ho capito Non è portata una carta Non portate tre Non portate tre Non portate Ora ti insegniamo anche quello Aspetta l'ultimo che vuole questo non si vede allora facendo sempre di guarda con gli uomini tutti i testo la seconda l'otto di picche guarda lasciamo più in mezzo al mazzo in questo modo si vede mazzamazzo no più in mezzo non ho visto come mazzamazzo così cosa l'otto di piccola credo mezzo più in mezzo ammazzo lo vuoi bene così stava bene così sei sicuro andiamo a fare una cosa il muscolio dell'americano lo conosci cosa fare ti ho mai insegnato prima sei un grande chi ti ha insegnato? no la tua carta sarà più o meno in mezzo so più o meno che potrebbe essere quella parte là oh quello non glielo fa spiegare perchè lo voglio fare nella settimana oggi se lo spiega adesso è finita peccato che ho perso l'otto di picche veramente no allora non è facile no? utilizziamo la carta gemella sai cos'è la carta gemella? guarda no che cazzo fai? mettiamola in mezzo la carta gemella la mettiamo in fondo così in questo modo anzi carta gemella un valore è 8 1,2,3,4,5,6,7,8 la carta è la notte piccola che cazzo fai? vieni perfetto ma io ti volevo stringere ahahahah allora sveglia la carta fai scegliere la carta allo spettatore o così ok però così una volta che scegli la carta poi devi fare il dribble in modo tale che quando va a mettere la carta tu guardi la carta sotto almeno il trucchetto era il trucchetto come ne si era sempre stile 4 di quadri ok guardo il 3 di fiori faccio finta di cercare lo vedo la porto in prima posizione ok e dico vabbè prima di cercarla faccio un miscuglio faccio un miscuglio normale e rimane sempre in cima dopodiché quando sto per finire al posto di lasciarla in cima la porto in seconda per istruzzi come te seconda in modo tale che dici è la prima no però basta che io metto la carta così ne vado a prendere due faccio qualsiasi cosa dico con uno schiocco arriva su con un rutto arriva su arriva in cima tenendo tutte e due le carte poi fai un'altra cosa strana se io vado a mettere la in mezzo schiocco rimane su oppure prendi il mazzo fai finta di prendere la carta sopra in realtà vai a prendere quella sotto con il medio fai di questo però deve essere veloce cioè deve essere immediato che non si vede e rimane sempre facciamo provalo vai me lo fai a mezzo e dopo sceglimi una carta magari no sceglimi una carta via mi fai a mezzo mi fai a mezzo oh bello tu sei un mago te conosco non fai il gioco della giapra dai fai il gioco della giapra non sto a pulire le mani questo cagnolino non sto a pulire le mani come fa tutto qua ehi allora corona come si chiamano voglio mi hai smontato tutto mi hai preso una si ok non l'hai vista poi mi fai lo triple per vedere l'ultima carta ah si quello la così si ok da metton dimmi stop subito guarda non ti preoccupare guarda questa ah si vedo dai 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 hai messa bravo poi ah faccio con finta di cercare te lo sto a dire eh ok grazie hai compito quella cazzo qual era quella dicendo io lì dai che rimorchi con la magia rimorchi i numeri fake dell'olandese già rimorchi quel cazzo lui con il suo mazzo ha rimorchiato un numero fake dell'olandese che cazzo son nero cazzo nero latino americano alto mago e tra due anni muscoloso ok quindi la tua è questa quale questa no questa è qua stava in fondo la mia è questa che stava qui la mia stava la mia stava la mia aspetta faglielo capire perché tu stavi così con le carte ahhh io io faccio ah ok sto cercando la tua fra no ma fai proprio il taglio così tu scusa stai così lasciamelo per favore me lo lasci per favore arrivi qua un gesto naturale fai questo guarda da qui fai questo e chiudi che fallo che fallo cazzo fallo eppure se questo così più semplice e quindi ho metto qua e poi esatto esatto poi con quello che fa io so che sta sopra esatto cosa fai quindi tenendo il mazzo così ah no 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 americana pop america no non stai tranquillo era così che è sta roba fa rumore questo è un microfono quindi faccio così oh tu sai che qua c'è l'otto di feri in cima sì sì non lo metti come seconda carta la seconda volta che mi spiega sì anche la prima direttamente stai zitto vediamo la seconda ok grazie non lo sa la verde più o secondo me più o secondo me rega ah signori ma che classe oh sì è buonare posso in bicchiere perché ho fatto i mostri bene non mi ha mai più di soldi devo dare quanto costa? no non mi ricordo no non so ti stavo scherzando in realtà sì giusto non so qualcosa è andato sì sì no 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 per caso ho trovato la struzzata vai vai quello è quello raleo raleo mi hai salvato ciao in pubblico sta cosa regoli è tutto è tutto l'hai visto così è mia è la mia carta è la mia carta nel domanda è così ma se è arrivo stappiccicato oh dio come si è fatto a trovarla? carica miseria unico unico ti è l'utile grazie oh dio cazzo 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 gianni è scappato gianni non scappa mai gianni sta ancora a casa stai non si aspetta che passa l'autobus fai fai quindi fai le scorrere queste però vai porta tu tutte queste tira su queste ok ah mo c'è il jolly in cima però non ho niente mo un altro jolly in rito ok quindi guarda che sta in cima lo so eh guarda cazzo vedi fai vedere vedi no cosi cazzo è logico non ti devi far vedere e prendi due carte lo so però non riesco prende due carte guarda vedi fai così fai questo qua si chiama rifo dai arrivi per gli ultimi due mhm rifo ti devi fare no vedi ho tutta la mano sopra come se tu si fare stai rimpiato è vero io non stava fa basta la voce no lui è spuntato no io abbiamo metto abbiamo metto i minuti prima che mi si scarica la battaglia per favore vai come se tu dovessi fare questo no ok lo fai soltanto sull'angolo e arriva le ultime due ok e poi e questo è sull'ultime due fai vedere vai in cima perchè fai il toc toc come ho fatto Matteo eh toc toc non c'è sta più ho visto ecco la vedi è questa in cima è la tua carta è la tua carta si quindi dopo che fai la carta in cima si poi cos'è che fai la chiudi chiudo prendi la prima carta è la prima carta guarda e la metti in mezzo vedi porto l'otto guarda la metto qua la metti in là hai visto la metto qua hai visto oh quanto cazzo sta la carta sta sempre qua ma come hai fatto è finito io ho imparato a fare la frog attenzione facciamo i veri no no non lo facciamo ma dire Matteo perchè sta durando un'ora questo video mi sono rotto il cazzo quindi ragazzi stai finito tu 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 stai finito troverete questo in descrizione per acquistarlo questo è tuo tu lo regalo ti devi allenare con questo ok tanto c'è un cazzo la fa a casa esatto ma comunque a posto di secarti con Johnny che ci metti tre ore perchè ora che ne fai una diventa capotanno vedi io dai Johnny ora di io lo svegliamo su ragazzi giù e a un prossimo video